La BCC di San Marzano continua ad espandersi nel territorio ionico. Un nuovo punto di consulenza e servizi Bancomat è stato aperto a Crispiano, sul corso principale del Paese. La conferma, da un lato, della solidità dell'Istituto, dall'altro, dell'attenzione al territorio che lo ha sempre caratterizzato. Attenzione che dovrà rimanere immutata, malgrado la riforma di accorpamento delle banche cooperative. Emanuele Di Palma, direttore generale della BCC di San Marzano. Nessuna banca del Sud Italia supera i 200 milioni di patrimonio e quindi il destino delle BCC del nostro territorio sarà quello di confluire nel gruppo unico. Quindi la partita si comincia a giocare in questa maniera. Sarà necessario che le nostre BCC abbiano una forte rappresentanza a livello nazionale perché siano fatti valere i valori del territorio ma anche le esigenze e le peculiarità del Mezzogiorno ma della Puglia in particolare. Ci batteremo per questo. Speriamo di trovare all'interno della nostra regione chi la pensa come noi. Speriamo di non trovare pugliesi schierati su altri fronti.